Ciao, sono Leonora dell'Associazione Alle Ortiche. Noi siamo un gruppo di volontari e volontarie che dal 2019 portano avanti un progetto di rigenerazione urbana e innovazione civica. Ci troviamo negli spazi dell'ex vivaio del Comune di Genova, dove abbiamo in gestione 2700 metri quadri di questo immenso luogo verde nel centro città. Lo spazio di Alle Ortiche è un centro culturale ambientale dove ambiente, natura e cultura si mesclano per dar vita a un luogo di comunità con diverse attività ed eventi. Oggi siamo qui per parlare del residuo umido e dei progetti che portiamo avanti su questo tema. Abbiamo ideato un manuale sul compostaggio domestico che presenteremo nelle prossime settimane e abbiamo costruito insieme ad altri partecipanti una compostiera di comunità, quindi per creare insieme ai cittadini della zona un sistema di recupero della sostanza organica e per trasformarla in qualcosa di utile a tutti al pianeta.